E ragazzi, come va? Io sono FieriNiki E io sono Seb, che si è già come GTA 5 E stiamo qui con un nuovissimo episodio del nascondino In compagnia di Espigiochi e Luca Ma prima di tutto... Le facciamo vedere adesso, non lo so proprio neanche io Allora, aspetta, aspetta, quando esce questo video esce... Ok, sì, 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 sì Allora, consolini, state vedendo le nuove sedie che ci hanno regalato Sono fantastiche, uscirà un video tra qualche oretta come video speciale Dove appunto proveremo a montarle e le vedrete meglio Comunque volevamo giusto farvela vedere perché sono bellissime La mia è rosa, è bellissima In ogni caso, quest'oggi giochiamo a un nascondino su GTA con Espigiochi e Luca E abbiamo scelto come location la casa di Michael nel single player È bella, è grande, ci sono due piani, tanti nascondigli Giocheremo con tre trasformati da topo e un essere umano Che potrà utilizzare un'arma melee, quindi corpo a corpo E le granate, perché ovviamente non può andare sotto ai divani Sì, giusto, abbiamo dato la pistola Scusami, ok, non mi ricordo neanche le regole E il nascondino Comunque iniziamo, passate al canale di ESP ed iniziamo Ho sentito che qua ci sono dei topi che hanno infestato la casa e che devono morire Dai, dai, un po' di formaggio? No, no, al massimo un po' di proiettili Dai, dai, un po' di formaggio Quelli ve li posso dare, molto volentieri No, che è questa signora? No Scappiamo Guarda Seguiamo Luca Luca dove vai? Dov'è Luca? Dov'è Luca? L'ho perso Ecco la nostra casa Andiamo poi Dai, voletevi, vi do il tempo di nascondervi Poi vi ammazzo Poi vi ammazzo No, spi, smettiamola Oh, grazie Oh mio Dio Stavo soffocando Dov'è Luca? Sono qua, ti arrivo Ok, dai, vai, vai Ti seguiamo Andiamo Ok, ok Ti seguiamo, ti seguiamo Mamma mia, queste scale sono altissime Tu, 30 secondi per nascondersi Questo, questo non è male Ok Qui sopra non è male Eh, ma come ci sali? Siamo troppo ciccioni per salire Eh, quello non ci avevo pensato Luca, ma non ci abbiamo seguito Ma come ci avevi pensato? No, no, no Però ce ne sono altri Fere puoi partire, Fere puoi partire Vado Sì, perché ci stiamo mettendo troppo tempo Guarda, guarda Però non mi fido tutta la casa Ok Ci sono Guarda qua Perfetto Perfetto Guarda dov'è Luca Guarda dov'è finito Luca Sì, ma Stef Se la smettessi di annusarmi la coda Mi faresti anche un favore Espi, c'è poco spazio Non è colpa mia Ok? Se non vuoi farci vedere Ti devi far andare bene le cose così E non siamo dentro un cespuglio Di quelli cespugli Eh, stavo guardando anche i cespugli Capisci? Il cespuglio fiore Non siamo dentro uno di quelli Ok, va bene Sono i due tizi Che avrei più da quest'oggi Ok, ok Stavo guardando anche dentro la piscina Che non si sa mai Ok, no, hai fatto bene Hai fatto bene Magari volevamo fare una nuotatina Non si sa Dovemmo un po' a sinistra Forse stiamo insieme qua dentro Aspetta Io Oh, no Ok Aspetta Non ho idea di dove possiate essere Aspetta No, sono andato in retro Espi Io sono per metà con te Sono solo che state con me Ma benissimo così E' qua Ce l'ho fatta Ciao ragazzi Vieni qua No, non ci stiamo Luca, ma dove sei andato? Fate spazio Vi posso raccontare una barcelletta? Sì No C'era una volta T'ai topi Dentro un cespuglio Quindi dice che sei dentro un cespuglio E c'era una frenichi Che ci cercava con una pistola A un certo punto Ci ha trovato e ci ha ucciso Che bello Dovrebbe far ridere questa cosa Vabbè Esatto Perché non succederà Ti sei colato le spalle Staf Mandiamolo via No Non c'è nessuna Ne fa L'espi Allora Smetti di riconarmi Sei soltanto geloso Del mio nascondiglio Un po' più centrato del tuo È vero Smettete Dai Mi sa che qualcuno È dietro di noi Che? Però non è giusto Mi avevi detto Mi avevi detto niente C'è spuglio Eh ma non è proprio C'è spuglio Chi è la codina Corri 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 Nessuno È di Luca Scappa Luca Ormai è finito il tempo Non c'è bisogno di scappare Davvero Ormai Si pacifica? Se lo prometti? Uno però lo uccido Non so chi è Ma lo uccido Chi è questo? Perché sono sempre io Sì Perfetto Almeno uno Visto che sono l'unico ad essere morto Mi vendicherò Quindi avete 30 secondi per nascondervi E Stef arriverà Luca E vi dico soltanto una cosa I miei capelli si mimetizzano con i cespugli di questo cortile Oh no Quindi non mi verrete arrivare Il nascondiglio migliore di sempre Siete pronti? Oh non troppo Stef Non mi sento così sicuro Avviato E spiega mi chiedo Allora Allora Qualcuno della sabbietta Me la sto facendo sotto Decisamente Non so perché Non so perché Ma mi aspetto che siete in questi cespuglietti No Cosa pensi che siamo così banali? Sì 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 Perché entrambi non siete convinti Del nascondiglio che vi ha proposto Luca Quindi vuol dire Che ha qualcosa che non va Potreste essere anche sotto questo divano Sembrerebbe No ma A Fere è scappato un sorrisino A Fere è scappato Perché fai ridere tu Sì certo Chi è che ci crede? Tenete una granata in questo divano Un attimo Lo sapevo Lo sapevo Luca è terribile Tu ci hai tradito Fere Io È stata verissima Ma non ho scontato il mio terribile Tutta colpa sua Espi lo sapevi anche tu che era terribile Lo sapevi anche tu Non ci aveva notato Facciamo Facciamo 50 50 di colpa Fra me due Mamma mia Allora Cioè Vi ho ammazzato tutti e tre Con una sola granata Sì esatto esatto Però le granate non erano valide No sì O sì Sì perché io non posso Non era solo la pistola No è pistola più granate Perché io non posso sparare Sotto al divano Fere E quindi Rinascondetevi perché non c'è stato gusto Mi rimimetizza dei cespugli Non lo so l'ho visto Io ho detto Ma qua è molto inaspettato No Luca Con me non esiste l'inaspettato Dato che vi ho lasciato tipo Tre minuti per nascondervi Non è vero Non è vero Immediatamente il primo indizio Inizio ad avviare il tempo Ma voglio il primo indizio Dentro casa o fuori casa Siamo Al morbido Ok Dentro casa Espy me ne ha dato anche un altro Espy questo è perché parli troppo Devi aspettare No Al morbido No perché io ho chiesto Ho chiesto una cosa specifica Espy e lui me l'ha data Tu invece hai dato una cosa Che non dovevi Dentro fuori casa Al morbido Dove siete? Non ci sono neanche Tu che sti ben nascondito Espy fermo però Fermo Mi stai spingendo Secondo me siete in questa stanza Non ti sto spingendo Non ti sto accarezzando No Sì ma non è che i granati È finite ciccio C'è proprio super granate Infatti ne ho 15 caro Ma che tre Ma che tre No scusa eh No non te ne ho finito Non posso vedere Io farei due Facciamo che le ha tutte finite Ma Io continuo a usarle Dai non le puoi usare così Amici non posso vedere sotto i divani Come faccio? Sì ma devi usarle solo quando sei sicuro Capito? Certo Non così a casa Certo Chi vi vede ho preso la granata Guarda che se ti sposti un po' all'indietro ci vedi Ma qua non si vede nulla Cosa si può usare le granate? Dovevi conservarla per il posto in cui non si vede nulla Secondo me c'è sì Mutarle sempre Quando ti trovo ti tiro le molotov Vespi Altro che le granate Ma le molotov non sono concesse Potreste essere qua? No? Allora Le ferie è morta Lo sapevo Perché a me sì? Allora 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 Perché teoricamente siete qua Hai ucciso tutti e lei che te ne sei accorta Tutti e tre? Sì Luca nascondigli sotto le cose non vanno bene Ma scusate Le granate sono illegali Eravate nascosti In un posto basso Al buio Spiegatemi cosa deve fare un poveretto con i capelli verdi per trovarvi Sì ma le puoi usare in tutte le stanze Devi avere un minimo di dubbio Cioè se non è facile Ti rinviate tutta la cosa ed esplodi Certo Devo sentire la puzza di topo per trovarvi Esatto È facile Ragazzi Mi vedete? Dove? Dove sei? Guardatevi bene intorno Da tutti i lati Da tutte le altezze E tutte le dimensioni Non possiamo guardare troppo verso l'alto Verso il basso Ci viene il torcicollo Esatto Abbiamo un collo piccolo Sorzatevi Sorzatevi E te in alto magari Qua Guardate No ma è illegale È legale questa cosa Stef Luca ti ha superato Te lo dico Luca Allora C'è una parte illegale che possiamo dirle Però dopo di che Secondo me Non ci trova Nel senso Luca ti inizia Allora avvio il timer E ti dico Abbiamo utilizzato l'F2 Ma secondo me l'avevi già capito da solo Quindi Sai questa cosa Tra due minuti Ti daremo un altro indizio Sì sì È partita il timer Poi inizia a cercarci Espi se vinciamo Vinciamo 5 etti di formaggio E la pizza anche Non dirlo ad Espi Che poi non pensa ad altro E non si nasconde più Espi la pizza I topi non la danno Mi spiace La pizza al formaggio E neanche Espi Il formaggio della pizza E il formaggio della pizza Il formaggio della pizza Sì quello te lo diamo Allora mi va bene Però devi stare nascosto Muto E fermo E non dire dove siamo E non dire dove siamo Il problema sono i fiori qua Che mi fanno stabilire Grazie 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 Espi Grazie Sei sempre molto gentile Cioè con una bomba Ci fa fuori tutti e tre Ah ovviamente Ovviamente Arrivederci e grazie Ciao ciao Però Vedere un dentro fuori 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 ma non proprio Forse Non troppo Dai no è fuori È un esterno È un esterno È un esterno Cioè noi vediamo comunque La luce del sole Le nuvole Il formaggio E sì Tutte queste belle cose Tutte cose belle Espi Mi vedi? Ok Sono Sono E vabbè Sono uno di quei due Ok Sì Capisci? Cosa stai facendo? Ora Ah Ups Hai sparito Sei sparito Luca è appena morto Allora Ta Ta Vado in ricognizione Ok Va a vedere dove è Luca Esatto Una granata Perché vedo un muro esploso L'ha fatto esplodere vicinissima a noi Quindi era nella nostra zona Però non nel punto perfetto Perché Ha sbagliato angolo Ha sbagliato angolo Qualche metro da noi Abbiamo vinto dunque Aspetta ti dico quanto è passato Ancora 30 secondi È vicino ma non abbastanza Espi Stai tranquillo Io lo guardo Ho sentito Ma lo vedi tu? Più o meno Vedo le sue esplosioni Siamo al sicuro per ora Siamo al sicuro Siamo al sicuro Ok Oddio questa granata potrebbe colpirci Aiuto Oddio Siamo salvi? Sopra Sono vivo Ok Ragazzi Sgraziati Ti hai dato troppi indizi però Troppi troppi Ci hai detto l'esplosione Tu sei ancora vivo? Io sono vivo Esatto Ma come ci siete arrivati lì sopra? Eh con l'F2 Espi Mi raccomando Conta bene che ci nascondiamo Ok 49 46 Espi Non è il modo giusto di contare Dai Venite Non so anche oggi De mettere i numeri Come posso andare? Mordichiamoli i piedi Mordichiamoli i piedi Come? Ma siete qua Ciao Che puto Scappate 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 tutti Correte anzi con Zago Correte anzi con Zago Tanto Espino ci prende Tanto Espino ci prende Vedete qua Mi sono dimenticato le granate a casa Perché ci passo sempre io? Bye bye Tu Steph Ma sempre Steph Ma sempre io Sempre io Fere Fere ci sei solo tu Dove è Fere? Nasconditi Io scappo Nasconditi Fere Scappo e mi nascondo Dove è dove è? Allora Mi ci credo Ok Ciao Fere Ciao Mi state guardando Come ciao? Sono teletrasportato su di lei Allora Mi ritrasformo Ok sono un topolino Fere sono con te Sono con te Ma dove siete? Sono resuscitato Sono resuscitato Tu non vali Sei morto No no Fere sono resuscitato No tu sei morto Tu sei corso Sei corso davanti a me Ti ho sparato Sono resuscitato Buongiorno Salve Anche tu Luca Anche tu Conosci la tecnica della rianimazione Un po' di formaggio Ragazzi Ragazzi ce l'abbiamo di fronte Io sono scappata di nuovo Mi sono Ho trovato le granate No Aiuto Aiuto Ma di nuovo io Espi Sai una cosa? Dove sono io in questo momento Ci sono i finicotteri Quindi non mi interessa Di essere morto Perché i finicotteri Sono più belli Andiamo tutti da staff Venite a vedere il finicottero bellissimo Arrivo È uguale a quello del propante Incredibile È uguale identico Non lo so perché Mi sono messo il pala cadute Direi che ci siamo per me così Perché questo video è stato davvero 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 divertente Quante ci sapere Ovviamente con commento e sondaggino Se vorreste vedere altri nascondini In delle case Con appunto tre in versione topo E un essere umano Perché secondo me è carino carino Perché appunto Il topolino si può infilare un po' in tutti i posti A differenza di un essere umano Che è gigante E quindi escono cose davvero divertenti In ogni caso Ricordatevi di passare dal canale Di SpiGiochi Di guardare il video Dove monteremo le nostre sedie Che uscirà qualche letta dopo questo video E ci fermiamo così Ma ragazzi Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare il video Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao